Slaven Bilic sta seriamente rischiando l'esonero dal West Ham, e gli Hammers stanno pensando ad altre opzioni per la panchina. Secondo le indiscrezioni del Mirror oltre a Manuel Pellegrini, la squadra londinese starebbe pensando, anche a Roberto Mancini come nuovo allenatore ma il tecnico italiano attualmente è impegnato in Russia con lo Zenit.